Il decreto del 23 luglio del governo ha stabilito che il Green Pass sarà obbligatorio dal 6 agosto per usufruire di diversi servizi. Alcuni nodi devono essere ancora sciolti ma la direzione sembra essere quella di voler evitare nuove restrizioni dovute all'innalzamento dei contagi e pensando alla scuola evitare la DAD. Alla luce di queste novità molto vivo il dibattito fra favorevole e contrari. Sicuramente è una misura di libertà, offre a tutti coloro che sono vaccinati la possibilità di agire, operare con anche l'opportunità di entrare in palestre, vivere spettacoli, essere al cinema, al ristorante al chiuso perché per l'aperto sappiamo che non è necessario. E conseguentemente io la vedo come da un lato uno stimola la vaccinazione perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi, vaccinarsi tutti perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. Questa è una scelta importante, io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni, più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consigliari, ci aspetta davanti un'estate un'estate in cui c'è voglia di socialità però un appello è lancio alle cittadine e ai cittadini toscani di rispettare le poche regole che ci siamo dati, lavarci le mani, mantenere la distanza, continuare a usare la mascherina. Questo virus possiamo batterlo solo tutti insieme, noi faremo la nostra parte e continueremo velocemente a vaccinare le cittadine e i cittadini della Toscana. Noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che qualora contraessero la malattia hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte e i dati ci dicono che chi è in questa condizione sono gli over 60 perché chi ha tra 40 anni e 60 ha lo 0,2% di possibilità di contrarre la malattia in maniera seria, chi ha meno di 40 anni ha lo 0% di possibilità di morire. Quindi noi dobbiamo spingere a vaccinarsi, dobbiamo incentivare i vaccini, dobbiamo fare campagne mirate a convincere chi ha più di 60 anni a vaccinarsi. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario, cioè il Green Pass limita la circolazione soprattutto di chi è più propenso a frequentare luoghi affrollati, locali, ristoranti, treni, aerei e i dati ci dicono che sono esattamente gli altri. Ci sono, ma è difficile che un signore di 80 anni frequenti una discoteca, un locale notturno, uno stadio. È molto più probabile lo frequenti un 35enne, un 25enne. Il 35enne o il 25enne a cui noi imponiamo il Green Pass obbligatorio ha 0 possibilità su 100 di morire qualora contraesse il Covid. E sapete perché il governo non impone l'obbligo vaccinale? Perché se imponesse l'obbligo sanitario della vaccinazione agli anziani, qualora un anziano dovesse patire conseguenze dopo una vaccinazione, il governo italiano dovrebbe risarcire la famiglia. E allora alle spalle di tutto questo c'è soltanto la volontà di non spendere soldi, non un centesimo sugli autobus, non un centesimo sull'edilizia scolastica, campagne, campagna promozionale al Green Pass, campagna promozionale ai banchi a rotelli. Il governo non è una fabbrica di spot, inizia ad essere un ente serio che ha a cuore la salute dei cittadini. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche, di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, perché lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e lo dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. Così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, in particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi, la Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultranziani. Il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. Dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass, invece così non è. Non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché se uno è tamponato nel Green Pass può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione. Perché più ci vacciniamo, lo dimostrano i dati che abbiamo di fronte oggi, più facile sarà tornare ad una vita normale, il che consentirà di tornare alle attività commerciali a vivere, e poi rimane l'altro grande tema che è quello della scuola. Noi auspichiamo davvero che non ci sia più la didattica a distanza, per questo siamo favorevoli anche alla vaccinazione per i professori, per garantire ai ragazzi di tornare in aula e di tornare in sicurezza. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass, così come è stato rivisto dal Governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni. E questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Il tema di riforma dello Statuto regionale toscano nelle ultime settimane si è assistito ad una vera battaglia politica fra i vari schieramenti. Ricordando che l'obiettivo dichiarato da proponenti, almeno questo ad oggi, è quello di portare un sottosegretario e due questori e che la modifica, ribadiscono i proponenti, non avrà costa aggiuntivi per le casse regionali, unanimemente si è deciso di spostare la discussione a ritorno in aula dopo la pausa estiva. Ma senta, io sono dalla parte dei cittadini e sto con i cittadini. Ai cittadini, se Gianni ha bisogno di una modifica dello Statuto per nominare un sottosegretario, in una macchina di 3.500 persone non gli importa giustamente nulla. Tanto è vero che appena è stato detto che è bene affrontarla in un altro momento, l'affronteremo in un altro momento. Non è quindi un argomento da concentrare l'attenzione che spesso in questi giorni sui giornali vedo concentrata. Non è tempo di polemiche, ho letto anche io i giornali, è tempo di dare risposte ai cittadini. Le forze politiche in queste settimane si sono confrontate e il collega Stella ha chiesto nella conferenza dei capigruppo di mettere all'ordine del giorno, così come previsto dall'articolo 42 del regolamento, la discussione sullo Statuto perché ferma da più di tre mesi in commissione. Visto la molle di lavoro che abbiamo in questi giorni in Consiglio, ho chiesto ed hanno accettato tutti i capigruppo di poter posticipare a inizio di settembre al primo Consiglio utile la discussione sullo Statuto. Io nel merito penso che l'accordo che le forze politiche stanno trovando, cioè quello di fare un sottosegretario, di allargare l'ufficio di Presidenza, sia un accordo giusto e importante. Giusto perché oggi abbiamo bisogno di seguire il PNRR con più forza, serve una struttura dedicata, serve qualcuno che se ne occupi in prima persona. E poi perché in questi mesi mi sono reso conto, anche penso all'ampliamento delle commissioni, che sia importante che ci sia buona politica, più politica. E tutto questo però con un impegno, che non ci deve essere nessun aumento di costo, esattamente come abbiamo fatto per il passaggio da quattro a cinque commissioni consigliari. È una riforma che non ci ha mai convinto, che io in prima persona ho contrastato dal primo giorno. Ritengo che non sia opportuno, in un momento in cui c'è la pandemia, in cui c'è da fare i vaccini, c'è da riaprire le scuole, da dare sostegno al mondo economico, pensare a aumentare di cinque le postazioni di governo della nostra regione. Per carità, è legittimo pensarlo. Non metto in dubbio chi aveva avanzato questa proposta. Ritengo che non è il momento opportuno. Noi siamo contrari, abbiamo sempre fatto una battaglia politica, io in primis, e siamo contenti che in questo momento si sia ritirata dalla discussione. Ci ha stato detto che se ne parlerà dopo l'estate. Un mese, dico io, è lungo. È passato un anno a quel punto, noi avevamo detto che in questo momento non era l'opportuno. Se poi sarà un mese o sarà un altro anno, arriveremo a metà mandato, non è un problema. Secondo me, i assessori, i consiglieri, le persone che hanno degli incarichi sono un numero congruo per garantire un buon governo della regione toscana. Misuriamoci sul buon governo della regione toscana e non sul numero delle poltrone. Io credo che in questo momento pensare a delle riforme statutarie per aggiungere poltrone e ruoli in regione toscana quando fuori la situazione dal punto di vista socio-economico e critica sia folle e irresponsabile. E soprattutto non è quello che meritano i toscani in questo momento, che hanno dovuto ascoltare un documento economico finanziario di 27 pagine che si basa in pratica sulla loro fiscalità che dovrebbe supportare tutta quella che è l'attività che la regione toscana deve portare avanti. Già questo credo che dovrebbe far riflettere la Giunta e questo Consiglio su dove incentrare il nostro lavoro, su cercare di reperire dei fondi, soldi, anche dal governo nazionale per portare avanti e sostenere le famiglie e le attività e non moltiplicare poltrone perché si sono fatte delle promesse in campagna elettorale. Una vicenda estremamente surreale perché siamo partiti da una proposta della Giunta regionale che prevedeva l'aumento degli assessori, quindi la giunta di un assessore in più, la possibilità per il Presidente della Giunta di prendere un sottosegretario anche esterno al Consiglio, quindi un'altra persona che non faceva parte del Consiglio regionale che sarebbe entrato all'interno del Consiglio regionale percependo uno stipendio da consigliere regionale e poi un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quello a costi zero. Quando c'era questa proposta sul tavolo, quindi con tre poltrone in più, tutte e tre decisamente ben remunerate, la maggioranza era favorevole e l'opposizione era contraria. Poi dopo abbiamo lavorato, ci siamo venuti incontro, abbiamo smussato gli angoli. Per quanto mi riguarda, era e resta inaccettabile il fatto che in questo periodo storico si possa pensare all'aumento di poltrone fuori dal Consiglio regionale, perché credo sia una follia, siamo arrivati a una proposta di riforma praticamente a costo zero, perché il Presidente della Giunta può scegliersi dei sottosegretari, ma può prenderli per forza tra i consiglieri regionali, cioè tra persone che sono già elette e quindi retribuite per fare consiglieri regionali, idem per l'ampliamento dell'ufficio di Presidenza. Quindi siamo riusciti a produrre una proposta di riforma a costo zero. Non appena una riforma è diventata a costo zero, una parte di maggioranza si è messa a gridare allo scandalo che volevamo aumentare le poltrone. Secondo me lì il problema è un altro. Lì il problema è che c'è una parte di maggioranza che voleva aumentare le poltrone in maniera retribuita, magari avendo già il bigliettino in tasca con nome e cognome delle persone da nominare. Hanno capito che non faremo nominare nessuno esterno al Consiglio regionale, perché su questo l'opposizione farà le barricate e allora ci si inventa di essere contrari alle riforme che allargano chissà cosa. Però è veramente un'assurdità. Erano favorevoli quando c'era da nominare persone con stipendi in più, sono contrari oggi che la riforma è a costo zero. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!